Ora in pista abbiamo Sofia Lodi che ha 7 anni e panna da 3 ha ottenuto 2 vittorie e un secondo posto la scorsa stagione della categoria Pulcini del trofeo CRL ed è anche per lei nella stagione 2009-2010 si apre la strada per la categoria Propaganda posto non sai dove? In fondo in fondo Grazie 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 Grazie